Domani mattina tornerà davanti al giudice per l'interrogatorio di convalida del fermo Osvaldo Turazza, il 55enne veronese, fermato per il duplice omicidio dei genitori, Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, accoltellati a morte nel loro appartamento nel quartiere Borgo Roma, a Verona, la sera del 24 aprile. L'uomo, dopo aver vagato tutta la notte, si è costituito nel pomeriggio del 25 aprile con una chiamata al numero di emergenza della Guardia di Finanza. Gli ha uccisi, ha detto al telefono ai finanzieri che lo hanno gelocalizzato e individuato in un bar, le mani ancora sporche di sangue con un profondo taglio, il segno di una collutazione. Prima di chiamare le forze dell'ordine, sembra che Osvaldo Turazza sia passato anche a casa, un appartamento a Porto San Pancrazio che condivide con una coinquilina e a lei che avrebbe raccontato di aver ucciso i genitori in un raptus mentre la madre stava cucinando. Alla donna avrebbe detto che prima ha sgozzato la mamma e poi si è diretto in camera dove ha ammazzato il padre, un delitto avvenuto nel pomeriggio del 24 aprile. La coppia è stata colpita ripetutamente con numerosi fendenti, la polizia scientifica ha sequestrato tutti i coltali da cucina, quasi certamente verrà disposta l'autopsia sui due corpi. I rapporti tra Osvaldo Turazza e i suoi genitori, Vilma e Giampaolo, erano tesi per colpa di continui liti. Il 55enne, che aveva precedenti legati agli stupefacenti, chiedeva spesso soldi per i suoi problemi di droga e molte volte li avevano sentiti litigare. Vilma Vezzaro, definita da tutti gentile e riservata, parlava poco di quel figlio problematico, ma i vicini vedevano che spesso soffriva per questa situazione.